Signori, ben ritornati sul canale. Oggi, signori, continuiamo una serie che sta andando avanti dal 2020. È stato l'anno dove caricai il primo video di questa serie, che ancora va avanti da ben 4 anni. Signore e signori, Younger Games. Un giorno dovrei farci, se volete in live, potremmo fare una reaction ai vecchi Younger Games. Anche se erano fatti molto male, cioè, veramente erano uno schifo i primi video di Younger Games. Poi col tempo ho capito come funzionasse e poi adesso io faccio gli Younger Games bene. Però, signori, oggi è il momento, direi, di fare un'introduzione di classe per questi Younger Games. E quindi... Signori, distretto 1, Darwin Waterson e Freddy Fazbear. Distretto 2 Walter White ed Enzio Greggio Distretto 3 Il Gabibbo e Jerry Scotti Distretto 4 Marcus Turam e Il Mac Distretto 5 Matt da WeSports e Waluigi Distretto 6 Saturn e Lion Distretto 7 Tearless Raptor e Poldo Distretto 8 Crystal is Purple e la sedia a due gambe Distretto 9 La Pimpa e Giro e il Pollo Distretto 10 Claudio Bisio e Rosario Peronello, visto che siamo in tema Sanremo... Eh, ci sta... Distretto 11 Goku e Vegeta Distretto 12 Paolo Polo, visto che la loro è... Signori... Con la musica di Super Smash Bros. Roll di Sottoponte... Signori, siamo... Procediamo... Allora, signori... Mentre i debuti salgono sui loro poti, suona il corno... Saturn funge dalla cornucopia... Saturn è quello che è quello che è la prima di Warner Games... Lion prende una bottiglia di arco mostraccio... Uno funge... Tutti che fungono... Gerry Scott in pugno una spada... No, Gerry Scott in pugno una spada... Gerry Scott in armato... La Pimpa funge... L'ho visto che sui Sparpol 200 punti mai condividono... Ok... Il Capimpo funge... Metta a ferro a spada... Rosario Fiorello e Lezio Greggio... Minacciano un doppio suicidio... Fallisce e muoio... No... Così... Già due kill... Cioè... Ma no... Cioè... La cortocopia delle risorse... Freddy Fazbear fugge... Darwin fugge... Warluigi fugge... Goku fugge... Il Mac prende una falce... Oh no... Il Mac con il trapezio e la falce... Oh no... La sede a due gambe... Recupera un tridente all'interno cortocopia... Due gambe... Tra l'altro la versione di Eurospin... Ok... Marco Sturamperi... C'è l'acqua pulita dall'Inter... Vegeta raccoglie fiori... Qua Luigi si ferisce... No... Lione... Lione raccoglie fiori... Goku ferisce gravemente... Ferisce gravemente Matt... Ma mette fila alle sue sofferenze... Oh questo... Matt contro No... Scontro... Da dibattito... Cioè serve un dibattito per questo scontro qua... Matt versus Goku... Saturn viaggia su un terreno più elevato... Luca Laurenti... No... 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 Ma povero Paolo... Cristo e Sparpon raccoglie fiori... Darwin riceve fornitore mediche da Cartoon Network... Poldo scopre la grotta... Claudio Bissi insegue la sede a due gambe... Quindi capisco... E la Pippa si separa... Per cercare... Vinito Sorse... Walter White riceve forniture mediche da... Jesse... Jesse... Vinito Cook... Allora... Jerry Scotti va a calcio... Ok... Per adesso sono morti... Rosario Fiorello... Enzo Greggio... E' opaco... E' opaco... E' opaco... E' opaco... Dove sapere ragazzi... Che... Che dire... Che quest'oggi mi sono recuperato... Ma in realtà avevo iniziato ieri... Mi ero recuperato... Avevo iniziato ieri o finito oggi... Mi sono recuperato tutta la live... Delle... Della terrorist... Delle sfide di cartone rivati... Di... Di Poldo... Leo & Lars... Ragazzi... E' uno di quei video... Che un giorno... L'ho già fatto... Però era davvero da solo... Lo dovrei fare... Con dei miei amici... Vi prometto che un giorno... Un giorno... Mi... 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 Jigoku distrugge le scorte 1... Altro scontro da... Da dibattito... Ehm... Poldo e Marco Sturam... Si raccontano storie su se stessi... Ehm... Letteralmente... Poldo che... Ehm... Ehi... Hai presente che... Ehi... Ho fatto un gioconto... Da... Ah... Però... Oggi si gioca un gioco a Roma... Dagli Roma... Ehm... Marco Sturam... Spaventa... Lion... Strangola... Cristo... Il Sparkle... Dov'è ricaggiat... Questa è la vendetta... Lion... Vuole vendetta... Freddy Fazbear... No... Ma povero Freddy... Goku diceva l'accetta da... Da... Dalla Mediaset... Perché là dove trasmesco... Claudio Bisi... Uccide Paolo Bonolis... Ventre cerca di scappare... Sfida tra conduttori cartoni... I programmi televisivi... Vabbò... Se ci pensate... Claudio Bissio... E Milanista... E Bonolis... E... Interista... Quindi... Un po' ha senso... Ma... Povero Paolo... Da NordVPN... Ok... Quindi... Ne sono morti... C'è la pippa... Luca Laurenti... Vegeta... Cristo is purple... Freddy Fazbear... E Paolo Bonolis... Probabilmente... Un secondo... Ok... Gua Luigi... Costringe Giro il pollo... Ad uccidere il Camibo... Il Bec... Decide di uccidere il Camibo... Giro... Cosa fai... No... Ma uccidi il Bec... No... Povero Camibo... Vabbò... Gua Luigi... Che evidentemente... Se volete ragazzi... Quest'estate... Le... Rivoci della Gua Luigi Hack... Quando aprò il tempo... Rivoci della Gua Luigi Hack... Perché... Ma... No... Povero... La servo che ha canticca... Ok... È già finito... Questo... Allora... Darwin... Uccide con una... Con la falce... La sedia... Come lo fai? Ha... Letteralmente... Gli... Spezzi le gambe... Che gli rimangono... Lo spatti... Il Bec... Dardo... Velenoso... Nel collo di Saturno... Uccidendo... No... Ma... Ma... Mauro... Sat... Sut... He... Ok... Va bene... È morto... bimbo la sede a due gambe tir l'estratto restato aspettato a tir l'estratto il tetto di arrabbicarsi sull'albero ma cade mortalmente a voler ottiglia abbastanza pedeva questa cosa che è rimasto perché dei supporti un sacco ripeto le parole trovi un altro aspetta un esplosivo da zelig ok quest'oltre non è morto nessuno allora ricerche da cartoon network darwin pesci di walter white jerry scottis farò un dardo velenoso del collo di marcus turam uccidendo l'età a questa ha senso perché se non mi ricordo male marcus turam ecco qua turam noa ecco qua ha senso jerry scottis lo sapete che il vitalista quindi spaventando questo è per aver accettato da parte per accettare gli amati inter al posto il mio dio ha senso è c'è un'unica ma strancio no ok è morto solo marcus turam contro la roba allora jerry scottis lo cip e fresco da uno sponso sconosciuto il migliore fai scontarci letteralmente una vita col povero lion no povero povero lion lui letteralmente sconfiggere rovra il presidente attenzione un evento un evento la cosa da avere realità non ci può provviste armi e memorie delle famiglie creduti il bec periscire ovviamente volte quattro mette giro il pollo pugnala pugnala ripetutamente a morte jerry scotti con i sai poldo e claudio biso collaboro per allegare coque va boh ne sono morti tantissimi il bec si trova la caviglia mentre scappa da claudio biso sono morti lion walter white jerry scotti e goku che è rimasto darwin in back waluigi poldo giro il pollo e claudio biso ne sono rimasti in ne sono rimasti in sei siamo agli ultimi sei oh no ma questo qua serve la musica qua serve la musica allora aspetta cosa mettiamo di musica epica music questa qua no me ne frego mi metto questa qua come musica ok me ne frego metto questa qua per i final six signori ma lui ci si viene per la stanchezza il giro il pollo diceva un esplosivo da da raigull il bec diceva un accent da da tiktok claudio biso il giro il giro il troppo il pollo il trenone allora poldo fa esplodere un esplosivo uccidendo Claudio Viso in back signori siamo agli ultimi 4 Polvo Giro il pollo, Darwin e Waluigi signori siamo pronti Giro il pollo diceva acqua pulita da dare colpo Giro il pollo muore di fame Polvo in plano Waluigi uccide siamo agli ultimi 3 signori Darwin, Waluigi e Polvo oh no, ora devo fare una cosa siamo pronti non lo vediamo oh no, Darwin e Waluigi Darwin spinge Waluigi giù da un deropo durante lo sconto con i coltelli Polvo muore tentato di fuggire dall'arena e signori il vincitore di questo Hunger Games è Darwin Waluigi 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 ma se volete io vi metto in un Hunger Games no, sono un Pepega, ok? sono un Pepega ma boh direi di simulare di poco perché veramente dai facciamo ne un altro allora da lui scappa con l'accensione della corda risposta per lo suo appoggiato dalla cortocopia Rosario Fiorello sbatte più volte adesso di Saturno contro la povero Saturn il primo eliminato da Rosario Fiorello Mest prende una pala Vegetta fugge Fredi Fazberg fugge che sui sparpoli trova una borraccia piena d'acqua Poldo fugge Luca, Laurenti e Gino il Pollo combattono la sede a due gambe Claudio Bisio sopravvivono la sede a due gambe Claudio B ragazzi non la pelata di Claudio Bisio li ha distrutti tutti Paolo Boronis tra un arco alcune frecce e una paretra il Capimbo fugge dalla cordocopia la testa non è scattolazione della corta la tutta fugge Goku e Lion combattono la borsa Lion si arrende e si ridina Waluigi fugge il segreggio fugge ok allora gioco il pollo e lezioni del gioco c'è riscotti attaccamento ma luigi lo protegge uccidendo c'è riscotti a più i tre personaggi c'è uno sconto da gerry scotti bette ua luigi cioè anche anche ma luigi contro jerry scotti e sconto di battito dove lo ripeto ci riguarda il ciclo raderemo la valigia di smg4 il lion ricevono esposito lo scorso sconosciuto vedete sarà basso un attimo per riposarsi cristo e sparpo lucide tir l'estrattore con la sua stessa arma da non ci dico la spada di minecraft rosario fiorello scocco la freccia la testa naturalmente questa è una rivalità il mech bambò non è successo niente darwin sparo ma paolo colore se tu non guarda mi cedocci del caribbo da ma povero pesi il sugo pesuto cosa bello c'è una accetta da sanremo il mech bambò il mech bambò intanto jerry scotti di ristrattore claudio pizzo il caribbo sono sono tutti i vostri a me la bambò la bambò la bambò la bambò la bambò l'inter marotta lì signori sta tanto troppe risorse a marco scurato marotta lì e la marotta lì ma porzi paolo bononi strangola darwin dopo aver ingaggiato una scazzottata e se ne va quello che aveva dito il primo anger games di questo video non sa che manca ci schianto eh però dobbiamo cambiare christo is purple riferisce gravemente il lion e lo lascia questa è la vendetta per il precedente anger games walter white in pluragogo per uscire lo si rifiuta a mantenere vita a walter white rosario fiorello back il back poldo e da sedia a due gambe e ritraccia l'uccino marcus oi dei in cinque per ucciderlo oh perché poi rosario quello ma non sei interista fiorello perché uccideresti lui dei top player cosa fai mi gira sempre la fonte in acqua walugi scuola l'arena la bimba scopresti ok sono morti darwin e lion e barcus turan walugi sei un esplosivo da nintendo nonostante loro lo ignorino il back fa esplodere un esplosivo uccidendo freddy fads bear e beto il back è on fire però poldo distrugge le propiste di walter white mentre dormi distrugge poldo muore di fame oh ma sempre walugi che forza le persone di uccidere walugi costringe la serie a due gambe per uccidere walter white o goku decide di uccidere con la serie a due gambe diventare di taglia il petto palomorolis pratica il tiro con l'arca e ne sono morti tanti sono morti freddy fads bear e bet polvo e goku il palomorello sconfiggere e guaririzza la bimba ma gli sfardi della vita e non succede niente oh no the fist siamo pronti walter white e walugi decide di lavorare insieme a rottere due rifornimenti e walter white deve cucinare cristo is purple dead un'imboscata a paolo pololis e lo uccide oh no la pimpa calabano povera pimpa ok in back simetizza tra i cesc si dipinge tutto il verde e letteralmente simetizza tra i cescui intanto li registra al live video scusa ok sono morti paolo pololis e la pimpa ok walter white uccide cristo is purple mentre cerca di scappare la sedia due gambe convince rosario forella ad ucciderlo va di ucciderlo in te what? che botto rosario forella ok il mac ricerca ci può essere tutto a volte attenzione un dosciami di tracker jack sono le app tracker jack quelle di vegeta fa per distanza da qual luigi e lo lascia come esca gacchio invece mentre c'era oddio wow vediamo che è rimasto sono rimasti walter white il mac la sedia due gambe e vegeta sono rimasti in quattro allora non è successo niente la sedia due gambe la sedia due gambe walter white fu rimissacuato a causa di ferite non curate attenzione signori attenzione siamo pronti per gli ultimi tre il mac la sedia due gambe non mi ricordo l'altro ma bo il mac prova che cerca di curare la sua infezione la sedia due gambe mette in dubbio la sua sanità ambientale ancora non ancora non ci siamo già vede qualcosa ma poco non succede niente la sedia due gambe finisce gravemente il mac ma lo mette fuori la sua sofferenza per essere tra i te con con la gamba le trafugge i vecchi sui muscoli signori siamo pronti ricetta per il tuo asse da quel anno siamo pronti per lui compiamo la musica l'ultimo scontro di questo video finisce la sedia due gambe la sedia due gambe implora vegeta di ucciderlo con riluttanza obbedisce uccidendo la sedia due gambe cioè la sedia due gambe ha detto proprio uccidi più vegeta meglio george vegeta onda energetica l'uccide signori il vincitore di quest'ultimo hunger games è vegeta prima di tutto io sono vegeta prima di tutto io sono vegeta prima di tutto io sono vegeta perché io sono vegeta perché io sono vegeta perché io sono vegeta vegeta e Darwin Waterson i cartoni rendono in questo hunger games e signori noi ti possiamo salutare ciao ciao ciao